Allora, siamo qui da Play Park Village a Bellizzi, provincia di Salerno. Vi presentiamo la nostra nuova struttura, la nostra nuova attrazione appena montata. Montata dalla ditta Tutto Confiabili, con la quale è la prima volta che abbiamo lavorato insieme. Mi sono trovato benissimo, abbiamo appena terminato i lavori, tra l'altro fatto in tempi record, in due giorni netti, da zero fino a quello che vedete montato, quindi aspettiamo solo di inaugurarla e è tutto qui.